Gabice Monte, come tutti gli anni, cambierà completamente l'est. Quest'anno più che mai il festival, giunto all'ottava edizione, prenderà veramente un colore incredibile e avremo degli artisti che il nostro festival può tranquillamente equipararsi a dei festival europei internazionali. Vi racconto molto brevemente quelle che saranno le chicche dal 24 al 26 di giugno. Partiamo venerdì e ovviamente abbiamo un DJ set di Napoli segreta, quindi come l'anno scorso apriamo il nostro festival anche a un pubblico più giovane. A seguire avremo il live di Pino D'Angiò, tutti lo ricorderete, con un suo brano cult degli anni 70, per poi finire la serata veramente con un ospite prestigiosissimo. Pensate che lui fa solo le più grandi piazze europee del mondo e parliamo di Cerrone. Il sabato partiremo con un altro DJ set molto importante, curato ovviamente da Italian New Wave, che è il nostro partner dell'anno scorso, oltre ovviamente che Gucci San Pellegrino, che è l'antre di quest'anno, e Riviera Banca, per poi arrivare al grande live strepitoso degli Imagination, quindi tantissimi successi legati agli inizi degli anni 80, Just an Illusion e tanti altri, che vedremo qui ripercorrere proprio nel palco di Piazza Valbruna. E poi alla fine vedremo un grande DJ set, che ovviamente lo aspettiamo da anni, e parliamo di Nikisiano, il DJ dello Studio 54 di New York. Arriviamo la domenica, che non sarà da meno quest'anno, perché comunque partiamo con un discorso di un lungo aperitivo, perché la domenica ovviamente le persone vogliono più di questo, di venire su dalla spiaggia, di stare molto easy, eccetera, per poi arrivare, partiremo con un momento culturale, dove racconteremo la storia della disco music, attraverso la moda, i DJ che hanno fatto la storia del territorio, passeremo dalla Baia degli Angeli allo Studio 54, quindi sarà veramente una cosa molto carina. Poi partiranno i DJ set con Gino Grasso, ovviamente lui assolutamente tutto in vinile, dopodiché avremo il live di DC LaRue, che è un altro ospite internazionale che viene da New York, ed infine una cosa inedita, avremo un DJ set di Ralph, con una selezione dedicata alla disco music, che lo avremo proprio qui, in Piazza Valbruna, quindi ci aspettiamo veramente un fiume di giovani, e poi avremo un DJ che non posso annunciare, che è un TBA, ma vi assicuro veramente, che è un ospite internazionale. Dopo due anni di edizioni con dei limiti, l'avevamo battezzata disco diva limited edition, perché avevamo delle limitazioni importanti, dovute alle restrizioni da Covid, quest'anno ci sono tutti i presupposti, per ricominciare a divertirci, quindi saranno tre serate all'insegna del grande spettacolo, grandi artisti, grandi ospiti, il 24, 25 e 26 di giugno, naturalmente vi aspettiamo numerosi, perché vogliamo riempire questa piazza, ridare un po' di felicità, di serenità, dal punto di vista della musica, delle note musicali che scalderanno le serate.